Impulso omicida è intento di causare sofferenza e morte. Le parole del GIP del Tribunale per i minoranni dell'Aquila, al termine dell'udienza per la convalida del fermo dei due sedicenni ritenuti responsabili dell'omicidio del coetaneo Christopher Thomas Luciani, aumentano in maniera esponenziale il senso di orrore provocato dalla notizia della morte del giovane di Rosciano, avvenuta domenica scorsa nel parco Baden Powell di Pescara. Orrore ha cresciuto ulteriormente dalla verità che emerge dall'esito dell'autopsia sul corpo martoriato del ragazzo, durata sei ore e affidata al medico legale Christian Dovidio in presenza del collega Ildo Polidoro, perito di parte della famiglia della vittima. A provocare la morte di Thomas sarebbero stati in particolare alcuni dei 25 fendenti sferrati dai due indiziati, che colpendo i polmoni avrebbero provocato uno shock emorragico irreversibile, causando in breve tempo il decesso del giovane. I primi fendenti avrebbero raggiunto il sedicenne alle spalle, dando il via alla furia omicida dei due minorenni indiziati, che ha spinto il jeep Roberto Ferrari a convalidare il fermo, parlando di impulso lesivo per provocare sofferenza e uccidere un essere umano, lungi dal motivo apparente del debito della vittima di poche centinaia di euro nei confronti del suo presunto carnefice, che per il magistrato sarebbe da considerare come l'incipit dell'impulso omicida. E mentre il quadro della morte del sedicenne, ieri pomeriggio si arricchiva di nuovi dettagli con l'esame autoptico in corso, al parco Baden-Powell un migliaio di persone ha partecipato alla veglia di preghiera promossa a Pescara dalla comunità di Sant'Egidio in memoria di Christopher Thomas Luciani. A rispondere all'appello non sono stati solo amici e conoscenti, assenti la nonna e i genitori del ragazzo che vivono all'estero, ma anche i rappresentanti di enti, istituzioni e forze dell'ordine, come il prefetto Flavio Ferdani, il questore Carlo Solimene e i rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre al sindaco Carlo Masci e a molti altri esponenti politici. Per Crocs, così gli amici chiamavano Christopher, fiori e biglietti posizionati davanti alla rete che separa il parco dell'area di vegetazione e sterpaglia in cui il ragazzo è stato assassinato, sono stati portati da tantissimi giovani, profondamente colpiti da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutti, rimescolando dubbi e paure di generazioni diverse e ora confronto, in una società che vede traballare i valori su cui si credeva fondata. Siamo qui, anche se molti di noi non conoscevano Christopher Thomas, perché ci sentiamo coinvolti e sconvolti, ha detto durante la preghiera di ieri pomeriggio padre Rolando Curzi, sacerdote della comunità di Sant'Egidio, parlando dell'ombra che ha sconvolto Pescara e tutta l'Italia. Neppure Don Marco Spadaccini, parroco di Rosciano, nasconde la commozione. Sono qui per rappresentare la mia parrocchia, la cittadinanza di Rosciano e in particolare Olga Cipriano, la nonna di Christopher Thomas Luciani, che non se l'è sentita di essere qui di persona, ma che ci teneva a ringraziare tutte le persone presenti che hanno dedicato una preghiera per il nostro giovane che non c'è più e per i suoi familiari, ha dichiarato il sacerdote alla stampa. Sarà proprio Don Marco a celebrare la messa per i funerali di Christopher Thomas Luciani, che si terranno quasi sicuramente domani pomeriggio alle ore 17 nella chiesa principale del paese dell'entroterra pescarese, intitolata l'Assunzione della Beata Vergine Maria.